Non lo metto così, io lo zenzero lo grattugio, perché così mi fa la schiuma. Ma tuo padre può chiamare le 22.41 di sera? Siamo su una diretta di Instagram. Ma vi sembra normale che chiama le 22.42 di sera tuo padre? Saluta, saluta, saluta mio papà. Ciao Marco. Ciao Max, sei in after? Ma perché? Tutto ok? Sei s*****ato? Non so perché. Troppo sesso, amore mio. Non penso sia dovuto da quello. Fatti fare un bel massaggio da Fede, ma Fede non mi fa mai dei bei massaggi ragazzi. Ma ragazzi è pericoloso, non sono un esperto di massaggio. Besito a papà? Besito grande grande? Grazie. Grazie. Così che tecnica, amore. Ma che tecnica.